Come si risponde a chi mette in discussione i vaccini? Non certo dialetticamente. Si risponde mobilitando la nostra fantasia. Sarà un clistere che vi seppellirà. Ecco, questa è la nostra risposta. Sarà un clistere che vi seppellirà. Fulvio bate, te le due ruti a nome di situazionismo e libertà. L'ho detto? Sarà un clistere che vi seppellirà. Troverete il logo di questa nostra battaglia. Ecco, fatene buon uso. L'ho detto che sarà un clistere che li seppellirà? Te le due ruti.